Alfa Elegance Madre Perla Per concludere, una sintesi delle fasi principali. Attrezzatura Due rulli, uno a pelo medio e uno a pelo corto, una spugna sintetica, un panno sintetico, una spatola di plastica bianca, un pennello a setole morbide, un pennello per profilare bordi e angoli. Prodotti Fondo Fondo Alfa Elegance Finitura Alfa Elegance Alfa Elegance Madre Perla Ciclo di applicazione Due mani di fondo Alfa Elegance, attendendo 4 ore tra l'una e l'altra, essicazione 12 ore, una mano di Alfa Elegance, essicazione 4 ore, una mano di Alfa Elegance Madre Perla. Alfa Elegance Madre Perla